Cari tutti, sono Nada. Quest'anno dobbiamo festeggiare il 25 aprile da lontano, dobbiamo farlo. In questi giorni ho trovato una bellissima poesia scritta da Calamandrei e vorrei leggervela. Dice così. Quando la sera tornavano dai campi, sette figli ed otto col padre, il suo sorriso tendeva sull'uscio per annunciare che il desco era pronto. Ma quando in un unico sparo caddero in sette dinanzi a quel muro, la madre disse, non vi rimprovero, o figli, d'avermi dato tanto dolore, l'avete fatto per un'idea, perché mai più nel mondo altre madri debbano soffrire la stessa mia pena. Ma che ci faccio qui sulla soglia se più la sera non tornerete? Il padre è forte e rincuora i nipoti. Dopo un raccolto ne viene un altro, ma io sono soltanto una mamma o figli cari, vengo con voi. E adesso per salutarci un piccolo canto. Lei non parla mai, lei non dice mai niente, ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia, quando la sua testa va giù. E tutta la vita gira infinita senza un perché, e tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. E tutta la vita gira infinita senza un perché, e tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Ciao a tutti!